L'incontro, la manifestazione di questo pomeriggio qua in provincia di Lecce è stata effettuata per il rispetto della clausola sociale. Abbiamo chiesto alla provincia, la provincia di Lecce rappresentata dal dottore Calamia e dal consigliere provinciale Mangione, abbiamo chiesto il rispetto della clausola sociale per i cosiddetti lavoratori storici. La nostra richiesta è fondata giuridicamente su tutta la normativa che prevede il rispetto della clausola sociale nella ditta subentrante. Tra le nostre preoccupazioni ci sta anche quella dell'assunzione tramite un'agenzia interinale. Abbiamo detto che staremo attenti anche in questo perché il nuovo datore di lavoro sta facendo questa assunzione tramite l'agenzia interinale. I lavoratori interessati dalla clausola sociale e i lavoratori storici sono da un elenco, da un confronto, dai vari elenchi, sono 29, più degli altri che andranno in coda ai dipendenti storici. Domani ci sarà un incontro in provincia con l'azienda e la ditta e poi saremo aggiornati sulle vicende.